Sono stati denunciati da un giovane e da una ragazza due furti, quello di un cellulare e di un portafogli. Il cellulare a quanto pare è stato rubato in una sala giochi, il ragazzo dopo averlo messo in carica in una presa si è messo a giocare ed al momento di andare via non lo ha più trovato, dove lo aveva lasciato. Il portafogli invece è stato rubato ad una ragazza che si trovava in un noto locale a San Leone. La giovane ha raccontato alla polizia di averlo utilizzato per prendere il denaro e pagare il conto e lo ha poi riposto nella borsa. Solo l'indomani si accorta della scomparsa.